va bene, smontate quella posizione Pazzeria nemica avvistata! Carica innescata! Ascetti al volto! Ho avvistato quella pazzesca! Ehi! Cosa cavolo stai facendo? È fuoco amico! Hanno neutralizzato la carica! Dobbiamo tornare là dentro! Vedo dei nemici! Vedo dei nemici! Vedo dei nemici! Guarda dalla! Guarda di stato dei nemici! Lo spedo! E' fuoco! Ho delle infezioni! Aggredite la posizione! Ben fuori il nemici con l'anzato! No! 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 Ok! Ci siamo! Ho avvistato della planteria! Lasso il sensore diretico! Il sensore diretico che lo mette! La planteria dei nemici con l'anzato! Contatto finito! Ho avvistato dei nemici! La planteria dei nemici! Barteria dei nemici con l'anzato! Ho delle infezioni! Caricattiva! Tutti in teo! Tatti! Capite! Brinko è la planteria... Tutti in teo! Tutto in teo! Abbiamo dei nemici in teo... CARI CATTIVA! Andietro! Nemici! Vengo dai nemici! Nemici! NEMIGI! Obiettivo bravo è nostro Abbiamo compagnia Abbiamo l'obiettivo Alba Un bel lavoro Abbiamo dei nemici in zona Chiedo un passaggio Versaglio a tenere Qui lupo due I tuoi obiettivi sono nostri Raggiungiamo la prossima base Chiudo Attenzione alla mira Settore tinetico lanzato Bratteria leggera con armi di piccolo calibro Passo L'attacco alla posizione Bratteria leggera Nemici Settore tinetico Traspetta Carica piezzata Che nessuno Che nessuno lo tocchi Attenzione alla posizione Merda Non ho tradizionato la carica Andiamo ragazzi Nemici Carica inesciata Attenzione al voto Nemici Un'attacco Non ho tradizionato la scuola Settore tinetico Granata Un attacco Ricarico Bene Abbiamo preso l'obiettivo bravo Avanzi Settore tinetico lanzato Un attacco Settore tinetico Bacchali fuori! Regali, scopri! Oh, in caso dei nemici! Fai fuori! Attaccate la posizione. Carica piazzata! Serete lontani i nemizi? Sì, va giù, sì. Abbiamo dei nemizi di gioco. Nemizi, fagali fuori! Batteria nemica ammizzata! Vedo dei nemizi! Sessore cinetico è alzato! Nemizi! Lasco il sensore cinetico! Obiettivo a fermo! Avviva! Granata via! Sessore cinetico trasmette! Batteria nemica ammizzata! Ricarico! Copritemi! Sessore cinetico lanciato! Versagli verificati! Fuoco in arrivo! 3, 2, 1, fuoco! Qui, lupo 2! Abbiamo preso gli obiettini in questa posizione! Raggiungiamo la prossima base! Chiudo! Tieni! Sono munizioni! Carico l'arma! C'è fino laggiù! Lasco il sensore cinetico! Velo dei nemizi! Guardate gli addosso! Agli indeseli! Non ci diamo lì! Non ci diamo lì! Appellate lì! Ricari! Copritemi! Accolite! Chiediamo! Stai contento! E fuoco amico! Nemizi! Batteria nemica abizzata! Batteria nemica abizzata! Batteria nemica abizzata! Batteria nemica abizzata! Grazie a tutti Grazie a tutti L'obiettivo prova il nostro, avanti Qui lupo 2, i due obiettivi sono nostri Raggiungiamo la prossima base, chiudo Fessore cinetico lanciato! Ecco, posizioni Ho avviato dei nemici Grazie a tutti 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 Grazie a tutti